Ua via le Ato in zona Abbiamo perso il comando Vilenico in testa Non abbiamo un nemico nell'aria Esplosivo aereo vicino a voi Ua via nemico attivo Un nemico in testa Un nemico in testa Un nemico in testa MISILE CRUSO ALEATO IN APICINAMENTO MISILE CRUSO Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.